Siamo con Anastasia Conte, post partita contro il Geas, una partita incredibile, sono vinte i supplementari con una tua grande prestazione. Vado lontano se dico che è una forza la tua minore partita giocata? Non lo so, sicuramente ero molto energica, aggressiva. Diciamo che mi sono messa come obiettivo quello di difendere alla fine alla morte, perché di solito quando difendo in modo aggressivo poi l'attacco mi viene così in modo estettivo. Quindi mi sono data come obiettivo quello e credo di esserci riuscita. Però oggi abbiamo fatto tutte un'ottima partita, le abbiamo massacrate secondo me in difesa, anche se abbiamo subito 77 punti, ma abbiamo dato tutto quello che potevamo dare e sono davvero contenta. Perché è una partita che non penso che gli altri pensassero che vennessimo vincerla, invece se giochiamo così anche le altre c'è grossa possibilità di far bene. E invece qua sbagli perché già contro Schio, se ne andate vicino, d'ora in poi nessuno vi prenderà sotto campo. Esatto, sì, questo è vero. Contro Schio abbiamo fatto quasi l'impresa, poi è andata così perché loro hanno più esperienza, però significa tanto già aver perso i tre punti. Grazie mille.